Lo stencil è un modo semplice ed economico per decorare le pareti. La cosa bella dello stencil è che potete scegliere dimensione, forma e stile del disegno che desiderate applicare. Se non volete usare della carta da parati troppo costosa, potete optare per questa soluzione. Perfetta per qualsiasi parete e in grado di dare un tocco di eleganza senza dover spendere troppi soldi. Continua a seguirci su Fine Living.